Qua Ciao raga Come è tutto bene oggi per la vostra felicità assaggeremo un sacco di ortaggi strani ok solo per la vostra felicità Perché a me mangiarli crudi mi fa alquanto schifo non riesco a capire che cos'è questa roba la radice Non ha nessun odore si ha un odore all'odore di In ogni caso ci piacerebbe sapere che cosa vi fa schifo anche a voi che cosa proprio non riuscite a mangiare Nemmeno a sentirne l'odore tipo i broccoli così da crudi ok Priveteci qui sotto che cosa vi piace e che cosa in realtà non potete nemmeno sentirne l'odore quindi bando alle ciance Partiamo subito assaggiando un qualcosa sceglie katia ma quindi con gli occhi chiusi e dobbiamo indovinare che cosa stiamo mangiando E dobbiamo indovinare Doviamo indovinare carina la storia di indovinarli chi va a prendere la bandana Bim bum bale giu col posto Ecco jolly ho vinto Vediamo chi parte fuori non vale jolly Bim bum bale giu col posto ecco 2 anche senza jolly non c'è nemmeno buco secondo me c'è un baro Dai Tu bari in qualche modo io lo so Bene partiamo però tu non lo fai nemmeno toccare perché se lo tocchi mi sgami subito ok Eh lo mangio dalle tue mani 3,2,1 bari Che cos'è? Che cos'è? Cosa sono? Eh i fagiolini lunghi no? I fagiolini lunghi Quelli grossi Hai indovinato Guardi L'odore Ma che cos'è? Per rapanello Eh giusto brava Tutti li stai indovinando ma tutto mangi non è possibile Questo sapeva di terra però E anche piccante Tappate il naso che se no lo riconosci subito Non sta respirando Mangia Che cosa? È piccante Ma davvero? Eh Dai Bubi che schifo Ho capito che cos'è? È quella radice strana Sai che cos'è? Eh che cos'è? È zenzero Hai indovinato Tutti li stai indovinando Dai Io lo mangio lo zenzero per quello ho indovinato Ecco Quando vado la sushi di solito lo mangio Apri Mari Fagiolino Eh ma tutto indovini È la vostra stessa Capito Allora questa stessa è bruttissima Che schifo Luca Che cos'è? Non lo so Vai Devi dare di mangiarlo Non lo so Non lo so Non lo sai? No Vedi assaggiarlo? No Ah beh Cos'è? Questo è peperone Quello verde Il crudo fa un po' schifo Raga Aspetta no ci sono Ok pensavo di essere rimasta quella sola Stupido Cos'era? Cosa? L'acqua L'acqua Vuoi l'acqua? Sì Bruciata La lingua Ma davvero tanto? Non pensavo così Mi stai preoccupando Raga la lingua La punta della lingua mi fa malissimo Scusa Scusa Ketty Non pensavo che ti facessi così male Dai Quindi andiamo avanti? No basta Tocca a te adesso Ah no L'ultima cosa volevo farti assaggiare Aspetta L'ultima Scusa Il pinocchio Però mi hai dato tipo l'erba del pinocchio Sì Ti ho dato questo Bene Sei bendato? Eh no Quanti sono questi? Sarà un dito medio tanto che ti conosco Apri tutto bene grande Dai ingoia non rompere È il broccoletto È il broccoletto Ci credo l'hai toccato Non vale No Dovresti invecchiare per recuperare il punto No Perché tanto non vale Ok Andiamo avanti Quindi d'ora in poi dovrei mangiarli tutti perché Sono aperto Tu solo uno non hai indovinato Va bene Apri grande Bubi Va bene apri di più Non vale toccare Eh tu me lo metti in gola Come faccio a mandare un morso così? Vabbè dai piano piano Stacca il pezzo su Oh che cazzo E' lo zenzero E' lo zenzero E' lo zenzero Bravo Bubi Dammi qualcosa di buono Cucciolino lebrottino Apri Smardi Apri Smardi Ciccato Ok Ciccato Perché mi hai quasi fatto fuori la faccia La lingua non me la sentivo più Ahhhh 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 Perché hai fatto? Perché dovevo vendicarmi Bubi Dammi altro almeno Dai Anche questo piccato Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è Bubi? Katia mi ho tutto in fiamme Tutto in fiamme Tutto in fiamme Questo qua è buono Un'altra mano Ahhhh 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 I pagiolini Pagiolini Ok Dammi qualcosa da bere Si qualcosa da bere Toh Bevi Ahhhh Ahhhh No voglio da bere ora Bevi allora Toh Ho tutta trofizzata Vedi Chi la fa l'aspetti Ehhh Così È stato un gioco veramente del cavolo Odio gli ortaggi E soprattutto le cose piccanti Apri Debo Si Dillo Chi fa questo? Chi fa questo vince tutto Quindi? Eh non lo sai Punto Basta Fine Ho vinto io perché Primo ho ingoiato praticamente tutto Tranne una roba che era il fungo Mi pare Tu hai sputato tutto Cos'era questo? Questo era il c***o della zucchina Ho vinto Ho vinto Ho vinto Ho vinto Ho vinto Ho vinto Comunque raga Siccome Anch'io È un moditigio totale Per sti cavoli di ortaggi Fateci sapere qui sotto Che cosa mangereste di queste cose Se c'è un ortaggio in particolare che vi piace Oh se vi fanno completamente schifo e non li mangereste mai Tipo io sti cosi non li mangerei mai Io si Bene raga se ancora non l'avete fatto Iscrivetevi al nostro canale Esatto Se ne avete voglia potete cercarci su Facebook Lei è Katia Privio Io sono Luca Lattanzio E aggiungeteci tutti quanti ok? Esatto Vi vogliamo bene Ciao raga Aaaaaa Hai sempre paura quando provo a baciarti Si perchè sei piccantoso Posso fare una cosa che ho sempre di ridere? No 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 Luca No No Dai Luca Sono cretino Guarda tuttora Adesso pulisci tu Che cosa? Tutto In che senso? Sistema tu Da dove comincio? Ah che ne so No No